Ciao ragazzi, oggi vi facciamo una storia con te in Italia. Cari amici, a Pasqua è una città meravigliosa per il suo carnevale. In tutto il mondo è famosa. Questa città si trova sul mare ed è molto, molto particolare. Lì non ci sono strade, ma canali, piccoli e ponti molto originali. Infatti i ponti hanno le scale e talvolta c'è l'acqua nella piazza principale. La gente non viaggia in autobus, ma ha il vaporetto che passa anche nel canale più stretto. Sulle gondole ci sono i turisti innamorati. Guardano le case e i palazzi colorati. In piazza San Marco ci sono tanti piccioni. Sono sempre affamati, chiacchieroni. Cari amici, a Pasqua ho visto tante, tante cose nuove, interessanti, favolose. Già, mostriamo a me, di Sosagio fuorlese. Ciao!